La tecnologia al servizio della sanità, oggi la visita del sottosegretario alla salute Andrea Costa nella sede di Exprivia a Molfetta. Il robot che sfrutta tecniche di intelligenza artificiale è utilizzato nell'ospedale Casa Sollevo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per la riabilitazione dei pazienti fragili affiancati anche tra le mura domestiche. E' stato presentato a Molfetta al sottosegretario alla salute Andrea Costa nella sede di Exprivia, gruppo che ha partecipato al progetto Cirobotics ed è impegnata nella sua divisione assistenza sanitaria nello sviluppo e nell'integrazione di sistemi e soluzioni tecnologiche per l'innovazione del comparto sanità nel nostro paese. Abbiamo davanti una grande opportunità, una grande sfida, abbiamo i fondi europei che dobbiamo sapere cogliere come occasione, come opportunità e certamente il tema della digitalizzazione, della telemedicina, dell'informatizzazione sono tutti i temi che ci permetteranno di creare una sanità migliore, più accessibile, più gestibile e con un servizio di maggior qualità ai cittadini. Oggi abbiamo difficoltà a immaginare una società futura senza un uso corretto e importante della tecnologia a supporto dell'attività dell'uomo, chiaramente l'assistenza sanitaria è una delle più importanti ma non solo, nel rapporto stesso cittadino-città digitali sarà da definire, da migliorare sempre avendo in mente, e questo credo sia assolutamente importante, è una tecnologia per l'uomo, per potenziare le capacità dell'uomo e sviluppare un uomo che si rapporta nel suo abito naturale.